Sì, è tornato single. Con piacere, con dispiacere. Ma guarda, non l'avrei detto. Non l'avresti mai detto. Non l'avresti mai detto. Pensava che mi passi tutta la vita. E così non è andata. Cioè che è andata avanti un annetto neanche? Ma meno, meno. Meno. Sei visi? Sì. Ci siamo lasciati, posso dire due secondi? Certo. Verso fine giugno poi ci siamo sentiti telefonicamente ma non c'è stato mai la volontà di entrambi forse di... Abbiamo tenuto le nostre posizioni. Abbiamo due caratteri molto particolari. Ma comunque sei contento che è finita. Meno male. E poi abbiamo provato in ultimo a rivederci ma lei aveva voltato pagina. No, va bene così. Va bene così. Sì, tranquillo. Perché Barbara lo guardi male? No, lo sto guardando benissimo invece. Sì, guarda. È proprio bello. Ecco, hai visto? Si conserva bene. È proprio... Beh, adesso è libero. Eh, ma se non sbaglio lui all'epoca non ha... Aveva dato un duo di picche a Barbara? No, non ho dato un duo di picche. Mi ero tolta dei giochi. Mi ero tolta dei tempi, scusa, era anche preso da quell'altra situazione. Ci hanno provato o no all'epoca? No, mi ero tolta dei giochi perché non volevo stare nel triangolo. Ah, ti eri tolta tu? È lei che si era tolta, sì, è vero. Sì, sì. Sì, sì. Grazie a tutti.